Non avere una campagna di vaccinazione per questa fascia di età, oltre che esporre i bambini al rischio contagio e ai pericoli reali, non quelli immaginari. Significa mettere a rischio l'apertura dell'anno scolastico, significa creare tensioni di vita ai bambini più piccoli, significa creare problemi psicologici, in qualche caso molto rilevanti. Tenendo conto di tutto questo, io credo che dovremmo avviare la campagna di vaccinazione per i bambini con grande serenità e con grande tranquillità.